dunque voglio provare a creare la sceme di questo giroscopio allora vado a prendere questa superficie control questo lascio andare e metto concentrico prendo seleziono questo vado a prendermi il piano frontale seleziono questo che parte 4 vado a prendermi il piano frontale e faccio coincidente con questo posso andare a mettere proprietà posso andare a mettere blocca rotazione chiudo poi vado a prendere questa superficie control questo lascio andare e metto concentrico per metterlo in mezzo posso prendere questa superficie questa vado a prendere mia parte 4 e vado a prendere il piano frontale e metto coincidente qua chiudo un attimo a questo punto vado prendo il mio be la mia base vado a prendere l'origine contro con la mia origine dell'assieme lascio andare e metto coincidente a questo punto è fissa vado poi a prendere questa superficie control questa lascio andare e metto coincidente per metterla in mezzo posso scegliere questo che la mia parte 1 vado a prendermi il mio piano destro con il piano destro dell'assieme lascio andare metto coincidente e in più vado a mettere questa control questa coincidente vediamo se si muove ok tutto fisso a questo punto mi serve di andare a mettere questo questo contro questo lascio andare e metto concentrico adesso devo metterlo in centro vado a prendere questo che parte 2 prendo il piano destro della parte 2 con il piano non posso questo punto vado a prendere questo piano della parte 1 che sarà il mio piano superiore con il piano destro dell'anello blu lascio andare e metto coincidente in questo modo questo qua può votare in questo senso adesso la soluzione l'ultima cosa che mi manca è andare a mettere questo questo seleziono con la superficie lì control questa lascio andare e metto concentrico adesso devo metterlo in centro dunque vado a prendere questa parte qui il piano superiore di questa parte qua posso andare poi a prendere indifferentemente il piano corrispondente di uno di questi tre che è tipo il votore o questo anello grigio questo verde provo a me a andare a prendermi il votore che si chiama parte 5 vado a vedere e prendo l'anello il piano superiore faccio contro lascio andare e metto coincidente in questo modo faccio comprimi elementi in questo modo o la mia votazione e ho l'assieme che vuoto in modo perfetto per poi fare la simulazione quando non vuota proviamo a vedere momentaneamente tasto destro lo fisso e vediamo se si sposta ruota va bene allora lo rimetto tasto destro questo qui la parte 2 lo rimetto mobile e adesso sono pronto appunto a fare la simulazione cinematica del meccanismo